Romina Carrisi e il corpo. Anni che lavoro sulla mia stima. Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, ha confessato di aver avuto problemi con il suo corpo e di aver lavorato a lungo sulla sua stima personale negli ultimi anni. Adesso, Romina Carrisi Power, volta pagina sull'argomento e lo spiega pubblicamente con un lungo post su Instagram. Ogni giorno mi guardo allo specchio e trovo qualcosa che non mi piace del mio corpo. Un giorno le cosce, il giorno dopo il viso troppo tondo, l'altro ancora, la pancia. Non mi lascio in pace, confessa la figlia di Albano e Romina Power. La voce dentro di me non mi tratta come vorrei e sono anni che lavoro sulla stima personale, cercando di cambiare la mia voce interiore. La devo sempre correggere, ma siamo puntualmente al punto di partenza, spiega la ragazza nel suo lungo post pubblicato sul social network. Oggi la voglio lasciar andare. Mi sono rotta di correggerla. La lascio andare e basta? Scrive Romina Power Carrisi voltando pagina e lasciando alle spalle il problema. E, ora di prenderne una nuova. Una che mi vuole bene. Una che non si sofferma sulla normalità di un difetto, ma che invece lo trova interessante, aggiunge la giovane figlia dei due amatissimi cantanti. Ciao ciao vocina. Fatti un bel viaggetto? Conclude Romina Carrisi Power. Una valanga di commenti inonda il post pubblicato dalla figlia di Albano e Romina Power. Tutti commenti di incoraggiamento e vicinanza. Romina Carrisi Power è stata letteralmente travolta da tantissimi complimenti dei suoi followers, ma anche di chi, in fondo, non sa nemmeno chi sia. Una ragazza definita bellissima e con una meravigliosa anima, Romina Power Carrisi. Senza ombra di dubbio, adesso, la figlia di Albano e Romina Power, può contare sull'incredibile e sorprendente sostegno dei suoi tanti seguaci sui social network, orgogliosi del suo nuovo modo di vedersi.